Hai detto che non ci sono tute di fuga, che vuol dire? Niente tute vuol dire niente fuga. Scusa, quelle non sono tute di fuga? Sono da immersione. Sì, però se siamo nei guai non possiamo usarle come tute di fuga? Oh sì, certo. Puoi uscire per 80 metri e poi il tubo di gomma ti riporta indietro. Ma quindi noi non... È così che funziona su un sottomarino, bello. Fuori è solo oscurità, è gelida, morte.